Cigep 2024 ci troviamo allo stand di Caffè Moreno, il caffè di Napoli e siamo in compagnia di Vittoria Percoco, la responsabile comunicazione e marketing dell'azienda. Cara Vittoria, bentornata. Bentornato Fabio e benvenuti a tutti a questa nuova edizione del Cigep 2024 dove siamo sempre orgogliosi di essere presenti e fieri di quello che portiamo sempre al pubblico sia internazionale che italiano. Siete sempre nella solita posizione all'ingresso del padiglione D1, una posizione vincente per voi, un po' perché tutti riconoscono in questa location quella in cui siete sempre in tutte le edizioni, un po' perché per loro rappresenta per tutti direi un appuntamento fisso. Esatto, questo ormai è il nostro posto e tutti sanno che siamo collocati qui e per noi chiaramente questa è una posizione molto importante dato che qui c'è l'ingresso di tutto il personale qualificato che viene a trovarci per assaggiare il nostro espresso napoletano che oggi è il nostro simbolo, è la nostra rappresentazione che cerchiamo di portare in tutta Italia e in tutto il mondo dato che ci scelgono proprio per la qualità del nostro espresso. In tutto il mondo è la frase chiave. Voi state investendo o meglio avete deciso di essere presenti in più fieri internazionali proprio perché nell'ultimo periodo avete riscontrato una forte richiesta in più continenti del mondo e così potreste davvero fare il grande lancio con la presenza nei pochi paesi in cui non siete presenti. Sì, fortunatamente oggi vantiamo la fornitura a tanti paesi di tutto il continente e anche negli continenti americani e ormai anche nel Medio Oriente e il nostro diciamo obiettivo è quello di puntare sullo sviluppo dell'export in quanto oggi il cliente ci sceglie perché vuole importare nel mondo la napoletanità del nostro espresso e questa è una cosa che fa onore a tutti noi torrefattori napoletani perché è una bella soddisfazione. Vittoria in genere si dice cavallo che vince non si cambia e dunque qui a SIGEP 2024 presentate approssimativamente le stesse cose che avete presentato a OSS 2023 pochi mesi fa. Di cosa stiamo parlando? La nostra punta diamante è la miscela certificata CSC che è una miscela 100% arabica che noi amiamo definire un 100% arabica napoletano perché comunque riserva quelle che sono le caratteristiche dell'espresso molto corposo che però comunque ha un'acidità data dalla presenza di tutto caffè arabica che oggi presentiamo soprattutto con le macchine personalizzate caffè moreno con il nostro logo che rappresenta la M di caffè moreno che nasce dal Vesuvio come se fosse il sole di Napoli quindi è un connubio perfetto che all'estero è una carta vincente. Un connubio che è quello con Napoli che vi vede sempre protagonisti. Allora Vittoria io ti ringrazio, ti lascio agli amici che sono dall'altra parte che desiderano parlare con te e ti do appuntamento alla prossima fiera, al prossimo evento fioristico che sarà credo se non mi sbaglio Venditalia 2024. Sì ci vediamo presto e faremo anche una fiera internazionale che si terrà a Dubai il Gulf Food proprio per avvicinarsi al mercato del Medio Oriente che è un mercato in forte espansione e poi ci vedremo sicuramente nelle prossime edizioni del CIGEP. Grazie a tutti.